Il settore delle armi e delle munizioni è un settore estremamente delicato, sottoposto a forti pressioni, rivolte soprattutto ai temi dell'etica e della morale. Molti rappresentanti di questo mercato hanno scelto di intraprendere un percorso sulla strada del rispetto per i valori fondamentali. Valori come la convivenza e il rispetto in ciò che ci circonda sono stati abbracciati da aziende produttrici, specialmente in Italia. Una di queste aziende è Fiocchi, un vanto della nostra industria manifatturiera e fortemente legata ad importanti e storiche tradizioni che si sono consolidate nel tempo. Oggi Fiocchi è un importante portavoce di questi valori e tradizioni. La pace, espressione di convivenza, è un valore. La sicurezza è l'area che ha il compito di preservarla. La storia ha insegnato che ci sono alcuni fondamentali principi da rispettare nell'ambito della produzione. Fiocchi ha scelto di utilizzare la tecnologia e la grande esperienza manifatturiera per seguirli. Fiocchi si è concentrata nello studio di soluzioni innovative per migliorare l'affidabilità e precisione dei propri prodotti nelle competizioni e nell'ambito della sicurezza. Offrire prodotti che favoriscano miglior qualità del lavoro nel campo dell'edilizia civile ed altri impieghi industriali. Il rispetto per l'ambiente è un altro valore fondamentale. Sappiamo che la caccia selettiva è una soluzione efficace per mantenere l'equilibrio faunistico e ambientale per la salvaguardia delle specie. Ma sappiamo anche che i materiali usati nella caccia costituiscono sempre corpi estrani all'ambiente stesso. È in quest'ottica che Fiocchi, estremamente attenta a questo tema, investe in sviluppo e ricerca al fine di produrre materiali compatibili sia con l'ambiente che con la salute, grazie ai prodotti lead-free ed inneschi green che non emettono vapori e o particolati contenenti metalli pesanti. La convivenza, la libertà, sono anche espressioni di equilibrio tra i popoli e fin dall'antichità questo equilibrio viene vissuto dagli uomini nella sua pratica più rappresentativa, lo sport, ambasciatore di pace nel mondo. Le munizioni italiane sono quelle preferite dagli atleti e dai campioni del tiro a volo di tutto il mondo ed è con quelle che sono state vinte quasi tutte le medaglie del tiro a volo nella storia delle Olimpiadi. Fiocchi è fornitore ufficiale delle munizioni di Londra 2012 e sponsor di campioni e campionesse che detengono record incontrastati. Fiocchi, inoltre, sostiene la raccolta fondi Teleton 2012. Il settore delle munizioni è un vanto del made in Italy con una quota di esportazioni che supera il 60% della produzione realizzata. Un vanto nel nostro mercato interno con un impatto economico del settore e del suo indotto che si attesta sugli 8 miliardi di euro con 2.200 imprese e 94.000 occupati. Il gruppo Fiocchi, con oltre 500 dipendenti, genera ad oggi un fatturato complessivo di oltre 120 milioni di euro grazie a più di 1.000 clienti italiani e attraverso 80 canali distributivi in tutto il mondo. Nel 1876 nasceva Fiocchi, un'azienda in cui i valori e le tradizioni sono state tramandate fino alla quarta generazione. Per più di 130 anni è cresciuta innovando costantemente. Oggi dà lavoro a centinaia di persone in quattro continenti ed è un attore di livello mondiale fondamentale nel settore. Domani Fiocchi crescerà ancora, contribuendo in tutte le sue aree a tutelare i valori dell'eccellenza e del rispetto delle tradizioni e dell'ambiente.